82 strutture ricettive, ristoranti meritevoli della certificazione di ospitalità italiana. È uno di quei casi in cui il come la fa da padrone. Essere sul mercato non basta, soprattutto di questi tempi in cui si dice che la crisi morda, soprattutto chi non mantiene standard di alta qualità. La Camera di Commercio di Pescara premia 82 attività per il riconoscimento ottenuto. Si tratta di un progetto che la Camera di Commercio di Pescara porta avanti dal 2004, quindi da molti anni, ed è un progetto che punta appunto alla qualità come valore aggiunto, come volano per superare anche il momento di crisi. Sono tutte imprese che volontariamente aderiscono al bando che annualmente viene adottato dalla Camera di Commercio e sulla base di un disciplinare che è uniforme su tutto il territorio nazionale. Ristoranti e alberghi che hanno superato controlli non annunciati e sono rientrati per merito nella classifica dei più ospitali. Il territorio pescarese, costa e dentro terra, con attività e iniziative di vario genere, è stato racchiuso in una comodissima guida che unisce turismo a gastronomia. Sono aziende che appunto vengono poi controllate e verificate a sorpresa da soggetti certificatori esterni che sono selezionati da ISNART, che è l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche che gestisce tutta l'operazione. E questi soggetti verificano la rispondenza delle strutture a rigidi disciplinari, per cui la sussistenza di criteri e requisiti che veramente possano costituire la qualità delle imprese.